... Miralda, scusami, ma questa, posso dire, purtroppo, questa eri tu? Ero io, sì. Una bella donna, felice. Sì. E questo? Questi sono i risultati dei trattamenti che mi facevano, come era diventato il mio viso. Qui ti sta infiammazione, un ematoma. È un'infiammazione tremenda che ti porta talmente a gonfiare che sembra che i tessuti si spacchino. Mi hanno iniettato una sostanza tossica, che è silicone, proibito dal 1993, eravamo nel 2006. Questa sostanza è circolante nel mio corpo e ce l'ho, l'ho trovata nelle gambe tramite biopsia, quindi si sa che è silicone, è in altri organi, nei linfonodi, e quindi crea una situazione di infiammazione cronica. Lui me l'ha messo anche qua? È durissimo. Ecco. E allora... Sembrano tutte palline come... Sì, praticamente ti crea anche un po' dei problemi alla vista, chiaramente. Vedi, è questa cosa qua dura che si muove come un osso. Me l'ha trovato nelle gambe, che ho fatto delle biopsie da altre parti, puoi girare dappertutto. Cioè dal tuo viso te lo sei ritrovato nelle gambe? Sì, perché per la forza di gravità migra verso il basso. Si sente... Sì, sono dei gran nomi. Sì. Attualmente io ho l'artrite reumatoide, la lipograno reumatosi da corpo estraneo, che è la patologia principale creata dal silicone. Mirella è condannata, resterà malata per tutto il resto della sua vita. Lei voleva solo fare un ritocchino al viso, così decise di andare da un medico, un chirurgo estetico. Sapevo che milioni di donne nel mondo facevano punturine e anche uomini, punturine di acido ialuronico, sono semplici iniezioni di una sostanza naturale che si riassorbe e non crea alcun problema. Un'amica di cui mi sidavo ciecamente mi parlò di questo stracciare come bravissimo, come persona sidabile. Io a questo medico chiedo semplicemente due piccole punturine qui nelle pieghe naso-labiali e appena appena una cosa qua, raccomandandomi che sia un trattamento impercettibile. E lui cosa ti disse? E lui mi dice invece che per un risultato molto naturale, come io chiedevo, bisognava fare un puntino qui, un puntino qui, un puntino qui e un puntino qua. Mi dice che usano questa sostanza a base di acido ialuronico che usa da 20 anni senza nessun problema e quindi io mi affido ciecamente. Immediatamente mi inietta questa sostanza. E poi cosa succede? Succede che dopo due mesi più o meno io comincio ad avere dei piccoli granellini, delle cose dure, come dei piccoli granellini di riso nel viso. A quel punto io torno, espongo la situazione, lui mi dice che non è assolutamente nulla, che userà un antidoto per sciogliere. Nell'andare del tempo questi granellini di riso diventano delle noccioline di ciliegia come dimensione e via via sempre più grandi. Finché arriviamo a luglio 2006 che da questa parte mi sveglio con una palla proprio, una specie di mandarino da questa parte attaccato alla gengiva dolorosissimo. Tornata dalle vacanze in settembre mi viene un corno qua. Quindi torno da lui, sì torno da lui, alle mie lamentele lui mi aggredisce. Mi dice che sono una cretina. A quel punto io, disperata, mi metto in contatto con questo chirurgo plastico di Napoli che mi avevano inconsigliato, la quale vuole le foto. Dalle foto lei capisce che è silicone. Dice guarda, sono quasi sicura al 99% che sia silicone. Questo è come diventa il silicone all'interno dell'organismo. Cioè questo te l'hanno tolto da te? Questo è stato quel poco che mi ha potuto togliere dall'interno delle labbra dove ho 24 punti, da qua a qua. Perché se non mi avesse tolto questo non riuscirei neanche adesso a parlare come faccio. Quindi questa cosa dura era il silicone indurito che avevi dentro le labbra? Sì, sì. E non c'è nulla da fare, mi ha detto lei, che la situazione è gravissima, che non potrò mai più fare nulla. E come ti sei sentita? Beh, io mi sono sentita che avrei voluto morire perché ho saputo in quel momento che non avrei mai più recuperato, diciamo, non solo il mio viso, ma mi disse anche che questa sostanza mi poteva causare dei problemi di salute molto gravi. Pensavo che sarei morta ma anche me lo auguravo perché questa prospettiva di una vita così di continue cure per sempre non era certo quello che io volevo e poi non riuscivo a capire la condeltà di questa persona che semplicemente per guadagnare di più mi aveva rovinato la vita. Mirella fa causa al dottor Stefano Stracciari. Mirella in primo grado vince e nel 2011 Stracciari viene condannato a un anno e due mesi di reclusione per lesioni colpose gravissime. Ma il dottor Stracciari nega tutto. L'accusa era che aveva iniettato silicone a quella donna? Sì, ma il silicone è stato trovato, poi comunque le dicono, è tutto agli atti, le sentenze sono pubbliche. Il silicone è stato trovato? No. Assolutamente non. Quindi lei non ha iniettato silicone a quella signora? Assolutamente no. E silicone non l'ha mai iniettato? Assolutamente no. Lei che cosa inietta? Acido, e allora? Che è quello che si riassorbe e scompare nel giro di pochi mesi? Una decina, non mai si sono venute, però è acido, e allora? Ma lei è stato condannato o no? Primo grado, sì, secondo grado, l'appello si è infatti con scioglie. Più di così? Ha soldi per prescrizione, perché lo sa che il silicone è pericoloso, lo sa. Mi deve fare la morale. No, dico, quando uno viene da lei, cosa gli dice sul silicone? Gli dice, se qualcuno chiede... Mi chiede il silicone, lo prendo, lo prendo per la collotta, ma mando via. Mi lascia in pace, davvero? Davvero? Assolutamente no. Cioè, uno viene da lei e dice, voglio fare un'inizione di silicone, lei dice, è vietato, non lo faccio mai, poi mai. Ma in te sì, ma ci mancherebbe una scherza. Ma è perseguibile con tanto di lesione personale, cioè materiale, illegale. Come se io le spavassi, uno le tirasse una coltellata. Una coltellata, addirittura? No, mi lascia in pace. Il dottor Stracciari ha fatto ricorso in appello e un anno fa è stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Oramai per me è diventata una battaglia, perché io oramai so che ho tutta una vita in salita. E per fortuna, che non lo so come, sono riuscita a arrivare fino adesso, perché io volevo suicidarmi, tra l'altro sono già andata anche in Zittara, per sapere come si fa, perché non riuscivo a affrontare più questa situazione. L'unica cosa che mi ha spinto ad andare avanti, nonostante mille difficoltà, è stato che se io mi fossi suicidata, avrei rovinato, avrei lasciato campo libero a questi delinquenti. Era come dire, bene, avete vinto voi? No, non devono vincere loro. E oggi ti dirò, io so che non sono più quella persona e non sono più quella bella donna che ero prima, ed era una cosa che chiaramente anche nel lavoro mi favoriva. So qual è la mia situazione, però... Nonostante tutto questo, diciamo, mare di difficoltà, io voglio sentirmi vincente e mi sento una bella persona che deve avere assolutamente giustizia. Allora provo a darmi un bacio. Perché ho detto, proprio così, lo voglio fare, questa cosa, ed è quello che mi riesce a far superare tante difficoltà.